buongiorno oggi preparo dei funghi cimapeno ripieni mozzarella e carne macinata di cavallo già condita con prezzemolo e aglio e pan grattato ho lavato i funghi ora unisco la carne macinata con la mozzarella aggiunto anche un po di olio e di sale ora viene pro soldi buongiorno buongiorno ora li metto a cuocere in un po di olio aggiungo un po di vino bianco buongiorno 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 Grazie a tutti.